Simo, non avete mollato fino all'ultimo, giocando punto su punto, non rendendo facile questa festa attesa a Civitanova? Sì, noi siamo arrivati qua convinti di quello che abbiamo fatto durante tutto l'anno, convinti del nostro quotidiano. Purtroppo stasera la Lube ha giocato molto molto bene e noi abbiamo giocato molto bene, perché è stata un'altra partita di altissimo livello. Non siamo sempre rimasti lì, non abbiamo mai mollato e purtroppo loro sono stati, come ho detto prima, ancora meglio di noi. Hanno fatto le cose fatte bene, bisogna solo fare i complimenti, ma sono comunque orgoglioso della mia squadra, dei miei compagni di squadra, dei miei amici. Dei tifosi che sono venuti qua questa sera, qua a Civitanova per tifarci, insomma ringrazio tutti, sono dispiaciuto ma allo stesso tempo sono orgoglioso di essere qua dove sono. Che anno si chiude con tanti secondi posti? Che bilancio dai? Un bilancio sicuramente positivo, siamo sempre stati lì, sempre rimasti lì attaccati senza nemmolare un centimetro, lavorando tutti i giorni, indipendentemente dalle sconfitte e dalle vittorie, sono sempre rimasti lì con un metà, io penso. Siamo stati lì, non abbiamo mai perso, non ci siamo mai demoralizzati, purtroppo non sono arrivati i titoli, però il nostro percorso non ce lo toglierà mai nessuno. Grazie.